La Regione sosterrà finanziariamente chi decide di avviare per la prima volta un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura nel territorio siciliano, comprese le isole minori. È stato pubblicato il bando del Dipartimento regionale dell'agricoltura rivolto ai nuovi imprenditori agricoli di età fra i 41 e i 60 anni. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro a valere dei fondi del completamento per lo sviluppo rurale della Regione siciliana al piano strategico PAC 2023-2027. Il 2% della dotazione, pari a 400 mila euro, è riservato ad attività da avviare nelle isole minori. Supportiamo la nascita di nuove aziende in agricoltura che resta, ha dichiarato il Presidente della Regione, Renato Schifani, un comparto trainante della nostra economia. Il mio governo è quotidianamente impegnato a sostegno del settore, messo in forte difficoltà dagli effetti della persistente siccità. Questo bando, ha aggiunto il Governatore, dimostra la fiducia in un futuro di sviluppo. È una misura che ha significativi risvolti sociali. Sosteniamo le iniziative di soggetti non più giovani, ma che abbiano ancora voglia di scommettere su se stessi e sulla nostra terra. e investiamo negli arcipelaghi siciliani, prevedendo di destinare specificatamente una quota dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali che vi saranno realizzati. L'intervento offre opportunità e strumenti per attrarre nuovi imprenditori nel settore agricolo e attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi sostenibili, sia in termini di ambiente che in termini economici e sociali. Occorrerà presentare con la domanda un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Sono favorite le fasi iniziali di insediamento, tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze. Il sostegno è erogato con il pagamento di una somma forfettaria in conto capitale di 30.000 euro.